Ciao, lui è Aki, è stato recuperato da cucciolo quando aveva 3-4 mesi su una strada di scorrimento veloce. Gli altri fratellini erano stati investiti e si sono salvati lui e un altro fratellino. Lui ha 9 mesi, era abbastanza spaventato quando l'abbiamo recuperato, ora invece con gli altri cagnolini ha sociabolizzato parecchio. La sua famiglia ideale sarebbe una famiglia di gente giovane disponibile ad accudirlo a prestargli molta attenzione. Se avete voglia di dedicare tanto amore ad Aki, chiamateci perché lui è in adozione ed è un cane dolcissimo e affettuosissimo. L'abbandono sulle strade è ancora incredibilmente una triste realtà che colpisce molti animali e sono davvero contenta che nel nuovo codice della strada sia stato inserito il mio emendamento che prevede la sospensione della patente a chi commette un reato di questo genere. E se dall'abbandono dell'animale in strada ne viene un incidente con morti e feriti, questa persona rischia una pena detentiva davvero importante. Anzi, persona, Stella, l'ho chiamata persona, ma uno che fa una cosa del genere non è una persona. Ci vorrebbe un altro termine, ma penso che ognuno di voi ci arriverà con la propria fantasia. Perché il punto poi è proprio questo. Nel momento in cui tu abbandoni il tuo cane, intanto tradisci un patto millenario perché il cane vive accanto all'uomo da sempre e nei nostri confronti ha speso una promessa di lealtà e di fedeltà infinita e chi lo abbandona lo tradisce. E poi veramente si tratta di un atto che mette a repentaglio la vita delle persone in maniera importante. Quanti sono gli incidenti stradali oggi? Quante persone muoiono per questo? E allora? Salvate A che ha veramente bisogno di una famiglia che lo tratti con amore e rispetto. Per adottarlo chiamate il numero 347 86 14 345.